Napoli è una città che ha una grande storia, ha un grande legame con la Spagna perché è stata per tanti anni sotto la dominazione spagnola, è una grande città del sud d'Europa, quindi è una città che mette insieme tanto talento, tanta creatività, tanta capacità di accoglienza e tanta passione come tutte le grandi città del sud. Il legame è un legame viscerale perché Napoli si identifica con la sua squadra di calcio, il calcio è il gioco più popolare che esiste in città e non c'è nessun bambino napoletano che non abbia tirato qualche calcio a pallone nella strada sotto casa, perciò il successo e le sconfitte della squadra di calcio sono il successo e le sconfitte della città. Che successi ce ne sono stati? C'è un grande entusiasmo, una grande gioia e anche un grande senso di rivincita perché spesso Napoli è stata additata come una città difficile, una città complicata, una città perdente, adesso è prima in campionato con una grande squadra e con una gestione molto manageriale della società e quindi è anche un motivo di grande orgoglio per i napoletani e per i tanti tifosi del Napoli che non sono a Napoli, perché poi bisogna dire che i napoletani e i tifosi del Napoli stanno in tutto il mondo. Ma i tempi di organizzazione sono stati molto lunghi perché chiaramente è una festa complessa in una città con grande passione, molto calda e quindi le principali difficoltà sono state cercare di organizzare una festa che fosse molto popolare, molto partecipata, ma anche organizzata e sicura e quindi organizzare la passione è la cosa più difficile che c'è, farla a Napoli è ancora più difficile, però questa è stata la grande sfida che avevamo davanti. Qual è stata l'idea? L'idea è stata di fare una festa distribuita, una festa diffusa che non avesse praticamente un solo luogo di aggregazione che consentisse a tutti di poter partecipare in parti differenti della città e dell'area metropolitana in modo da garantire la massima partecipazione però senza delle concentrazioni di folle eccessive. Il flusso turistico sta crescendo enormemente, nelle giornate di maggiore picco noi abbiamo in città la presenza di alcune centinaia di migliaia di persone come turisti, poi è chiaro che noi ci aspettiamo che in città ci saranno milioni di persone perché non è solo a Napoli una città di un milione di abitanti, la sua area di metropolitana è più di 3 milioni di abitanti, quindi ci aspettiamo che tante persone verranno in città e questo è il motivo per cui noi cerchiamo un po' di diffondere la festa per evitare che ci sia una grande concentrazione, però è un motivo di grande soddisfazione. Inizialmente c'è stato, quando proprio all'inizio c'è stato un po' di eccessi perché poi soprattutto i ragazzini e i bambini hanno cominciato a dipingere di azzurro tutta la città, chiaramente facendo danni importanti, a quel punto c'è stato il mio appello, l'appello di tante persone, di tanti intellettuali, abbiamo invitato le persone ad addobbare la città con festoni, striscioni, ma in maniera reversibile. Noi come Comune abbiamo lanciato questa idea di illuminare la città di azzurro, questo progetto Mi Illumino di Azzurro che ha illuminato tutti i monumenti della città e quindi questo ha trattenuto soprattutto i ragazzini, ma tutti i tifosi dall'imbrattare di azzurro Napoli. Napoli lo stesso è azzurro, ma è azzurro in maniera reversibile, in maniera sostenibile e questo è stato anche un successo della gestione. Mi fa piacere perché vedo una città felice, una città vincente, che poi nel mio progetto, il progetto di Napoli, tornare ad essere una città vincente. Questo chiaramente ci dà grande responsabilità perché siamo sotto gli occhi di tutto il mondo e quindi come io penso che Napoli deve essere talento, genius, poche regole, però deve essere organizzata e quindi questa è una cosa molto importante e penso che la città abbia risposto molto bene a questo momento di grande gioia collettiva. Quale Napoli troverà? Troveranno una città molto gioiosa, una città molto bella, una città molto calda e anche una città molto accogliente. Chi arriva a Napoli si sente subito a casa, da qualsiasi parte del mondo e soprattutto chi viene dalla Spagna si sente veramente a casa perché la nostra cultura, la nostra cucina, il nostro dialetto c'è tantissimo che è ereditato dalla collaborazione e dalla Spagna e quindi dico a tutti gli spagnoli ma anche a tutti coloro che vengono da fuori, Napoli vi sta aspettando.